Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, allora la top 40 dei migliori dischi di quest'anno nefasto Allora, avevo già fatto lo stesso video l'anno scorso, lo trovate in descrizione, ma facendo una top 50 Avevo fatto un sondaggio sul mio Instagram se i miei seguaci preferissero una top 40 o 50 E hanno preferito una top 50, ma io lo stesso ho fatto una top 40 Il perché è molto semplice, mi sono ritrovato con 60 titoli di dischi che mi sono piaciuti molto quest'anno Ma ne ho fatto poi un'ulteriore scrematura e secondo me 50 dischi erano un po' eccessivi rispetto al numero di dischi uscito quest'anno rispetto al 2019 Perché, anche se non ce ne siamo accorti, perché sono usciti centinaia di singoli su singoli Quest'anno i dischi che sono usciti non sono neanche paragonabili al numero di dischi usciti l'anno scorso E quindi una top 40, mi dispiace Comunque se volete seguirmi sul mio Instagram trovate il link sempre in descrizione Allora, non è una classifica come ho fatto per i film migliori dell'anno, trovate sempre il video sul canale Ma l'ordine è prettamente casuale, quindi è come mi vengono in testa Le ho scritti però potrei andare anche diciamo molto randomicamente, quindi non è importante l'ordine in cui parlerò dei dischi Vi ricordo di iscrivervi, mettere il like se vi piace e chi volesse fare un'adorazione, questo è il mio Paypal Purtroppo non ho la monetizzazione attivata su Youtube Mi sono imbappinato Questo è il mio pene Cosa? Questo è il mio pene? No, non è il mio Non è il mio pene Per chi volesse, questo è il mio Paypal Purtroppo è l'unica mia fonte di sostentamento Da quando Youtube ha deciso bene di levarmi la monetizzazione Ma ne parlerò forse in un video apposito E niente, sigla! Ma dai facciamo un remake Anche solo stanotte, tanto è solo un cliché Che l'originale non si batte Nessuno lo guarderà, agli Oscar non andrà Ma noi si vedrà e che piacerà Il nostro remake Ok, questa sigla è Una mia canzone del mio nuovo progetto musicale Chi volesse seguirmi Questo è il mio account musicale Instagram Fatemi sapere anche cosa ne pensate Della canzone e della sigla Nel 2021 usciranno tante canzoni Si spera Molte le ho già pronte Ma andiamo con il video in questione Miley Cyrus Plastic Arts Allora, Miley Con il suo gruppo di autori, arrangiatori e produttori È riuscito a fare un album pop Dalle attitudini molto rock Davvero molto interessante Anche molto maturo C'è questo rimando agli anni 80 Questo immaginario disco pop Ma anche molto rock Le produzioni sono molto fighe Molto anni 80 Tra l'altro ci sono dei featuring con John Jett e Billy Idol Quindi Siamo appunto su rock Nonostante l'album non sia rock Tra l'altro c'è il batterista Degli American Hi-Fi Una delle mie band preferite E niente Questo disco mi ha davvero sorpreso Anzi mi lego a Miley Cyrus E parlo di altri due album pop Al femminile Che mi sono piaciuti tantissimo Il primo numero 2 Di questo video è Kaisa Con Crave Mi è piaciuto davvero molto All of the feelings È un pezzaccio Nel senso positivo del termine Lei riesce a unire questa dance Anni 90 Dandogli un tocco di 2000 Con produzioni anni 80 Quindi questo miscuglio Mi è piaciuto davvero tanto Poi altro album Che mi è piaciuto tantissimo Un ritorno davvero inaspettato Kaylee Minogue Con disco Lei rispetto a questi album Di Miley Cyrus O Kaisa È riuscita a Diciamo Far emergere più Un animo anni 2000 Del resto È in quegli anni Che è diventata famosa E niente Riesce anche lei Su questo filone Un po' anni 80 A fare un album pop Con tutti i crismi Quindi davvero molto figo Ma spostiamoci In Italia Prossimo disco Piotta Con Suburra Final Season La soundtrack Diciamo Dell'ultima stagione Suburra Forse il miglior disco Rap italiano In questa classifica Tra l'altro Non ci sarà Il disco Di Amy Schilla E Jake Lafuria Lo dico prima Che qualcuno Me lo scriva Nei commenti Nonostante L'ho trovato Un disco Abbastanza decente E niente Questo disco D'Air Piotta Tommaso Che è uno dei miei artisti preferiti Italiani Caccia Caccia un disco Davvero incredibile Produzioni incredibili E secondo me È un disco Che può funzionare Anche per chi Non ha visto Suburra la serie Ovviamente Ci sono decine Decine di riferimenti Però insomma Sono canzoni Che funzionano Per chi hanno Ritornelloni Testo significativo Che ti cattura Parla un po' di Roma Della corruzione Della chiesa Della criminalità Un po' di questo Un po' di quello Però riesce a creare Diciamo Un immaginario Molto Molto accattivante E quindi Grande Tommaso Grande disco Sempre in Italia Prossimo disco Tutti i fenomeni Con merce funebre E Niente ragazzi Grandissimo disco Siamo su L'Indie Italiano Produzione di Nicola Contessa Dei Cani Che purtroppo Lo vediamo solo Nelle produzioni Degli altri Degli altri Fin quando non si decide A far uscire Un quarto disco Dei Cani E niente Forse è il miglior Disco Indie Pop Italiano Testi Riverenti Provocazione Ironia Innovazione E le produzioni Ovviamente Essendo fatte a Nicola Contessa Sono magistrali Quindi Grande disco Andiamo sempre con Un altro disco italiano Bruno Risas Con Chip Disco che ho recensito Che trovate Anche qui Sul canale Appunto Ho recensito Traccia su traccia Quindi ne parlerò Molto brevemente Brunori ovviamente Un disco brutto Non lo sa fare Ed è un disco Che a parte Dei pezzi Tipo Per due Che come noi Che mi fa venire Il diabete Ogni volta che lo ascolto Oppure fuori dal mondo Che trovo una canzone Piuttosto scema Piuttosto scema Per essere di Brunori Ecco E niente Firma Un altro ulteriore disco Molto interessante Produzioni molto valide Cioè mia madre Che sta chiedendo Ma chi è sta gente Ti devi aggiornare Ti devi aggiornare Non sei abbastanza aggiornata Ma spostiamoci invece In America Mesh in ganchelli Con Tickets to my downfall E Allora Avrei voluto odiare questo disco Perché questo fatto Di far ritornare Il pop punk Di moda In maniera così plasticosa All'inizio Mi stava davvero sul cazzo E però onestamente Non posso far altro Che dire Che questo disco Alla fine mi è piaciuto Purtroppo E così Mi gasa Travis Barker De Blink Alla batteria È qualcosa di fantastico Ovviamente È il mio batterista preferito Tra l'altro La persona che mi ha fatto iniziare A suonare la batteria Quando ero In primo liceo Quindi Niente ragazzi Questo disco Mi gasa Mi gasa Forse le canzoni Sono un po' tutte uguali Sullo stesso stile Anche le melodie Non è che Molte volte si differenziano Così tanto Però Insomma La storia Ci dice sempre Che quando un disco Sembra tutto uguale Vuol dire che Una persona è riuscita A creare un mood Un genere Uno stile Cosa che non è riuscito A creare Secondo me Mesh in ganchetti Però Per un certo senso Sì Perché comunque Questo misto tra Pop punk E queste produzione Cine Un po' trap Con questi featuring Abbastanza azzeccati Insomma Riesce a essere comunque Interessante Mi piace molto La title track Tra l'altro Chiamata anche Title track E niente Ragazzi Sì è un pop punk Molto plasticoso Generico E quant'altro I fill di batteria Di Travis Bark Sono stati Completamente Diciamo Ovattati Da questo messaggio Molto di plastica Però Devo dire La verità Non l'avrei mai detto Ma Mi è piaciuto Poi Bring Me The Horizon Con questo Post Human Survival Horror E niente Ragazzi Le ho messi anche Nel Nel video Dell'anno scorso I Bring Me The Horizon Mi regalano Un altro disco Che mi fa Gasare Questo Loro post hardcore Un po' Elettronico Un po' Un po' Un po' Un po' Linkin Park Mi piace davvero tanto E secondo me Fanno centro Anche quest'anno Poi andiamo avanti Dario Zunchelber Ah il mio amico E conterraneo Dario Zunchelber Dario Ti avevo promesso Che Saresti stato presente In questo video classifica E come vedi Rispetto la promessa E niente Cos'è questo disco E' una raccolta Di tutte le sue poesie Cantate Che vanno dal 2017 Al 2020 E lui ha partecipato A Strafactor E niente ragazzi Questo album Questo mini album Mi diverte davvero tanto Lui è un po' Il battiato Dei no altri Irriverente Provocatorio Aulico Forse troppo aulico Per certi versi Però mi piace E ragazzi Ogni pezzo è una hit Ci sono pure Due ballate Molto molto belle Riesce a essere pop Ma anche poetico Ma anche interessante Ma anche molto strano E insomma Molto interessante Tra l'altro c'è un pezzo I don't make a mess Che ha un'attitudine Quasi punk E niente ragazzi Grandissimo Dario Zunchelber Sottovalutatissimo E ti auguro davvero Tutto il bene Grande Dario Ah poi The Network Con Money Money 2020 Part 2 We told you so Allora ragazzi I Network sono un side project Dei Green Day Bill e Joe quest'anno È riuscito a fare Il peggior disco dell'anno E il migliore Praticamente I Green Day sono riusciti In questo arduo compito Però ragazzi Sono riusciti Sono riusciti Dopo 17 anni Torno al progetto The Network Diciamo a sorpresa E ragazzi Davvero lo penso Questo per me È il miglior disco Del 2020 Si forse avrei dovuto Dirlo a fine video Ma sti cazzi Sti gran cazzi Si mischia Diciamo questo Synth Punk Alla New Wave Al punk rock classico Al post punk Disco incredibile Tra l'altro Diciamo L'ironia La fa da padrone Ovviamente Diciamo 17 anni Ce l'aviano detto Che forse nel 2020 Sarebbe finito il mondo E effettivamente È stato Più o meno così Tra l'altro C'è una canzone Che ironizza Sulla terra piatta Sui terra piattisti E i network Appunto sostengono Diciamo Che la terra appunto Sia piatta Quindi diciamo È tutta un'ironia Una provocazione Ma quello che funziona Il disco È sostanzialmente La musica Le canzoni Sono divertentissime Tra l'altro canta Sia Billy Joe Che Mike Durant Che è tre cullo Quindi tutti e tre Green Day Cantano E per me È stata una gioia Esagerata Le produzioni Sono fighissime Questo elettropunk È davvero figo È davvero figo E niente ragazzi Appunto Green Day Il miglior disco E peggior disco Dell'anno In un'unica In un'unica botta Billy Joe Puoi riuscirci Solo tu Ma andiamo avanti Allora ragazzi Forse Questa scelta Farai non ridire qualcuno Ma Gigi D'Alessio Con Buongiorno Allora Se mi avessero detto Dieci anni fa Anche venti Che io nel 2020 Avrei messo Gigi D'Alessio In una delle classifiche Dei migliori dischi Molto probabilmente Avrei chiamato Un esorcista Per far liberare Il male Che c'era In me Ma ragazzi Come ho letto Su molti posti Facebook Quando uscì Il disco Ci sono solo Due categorie Di persone Coloro che Hanno amato Questo disco E coloro Che mentono Perché ragazzi Gigi D'Alessio È riuscito a fare Questo disco Che è davvero figo Perché che fa Unisce Il suo mondo Diciamo Molto classico Napoletano Con i nuovi Trapper Del momento Napoletano Quindi sostanzialmente Ha fatto quello Che un po' Hanno fatto i Subsonica Ovvero che Quando discograficamente Si fa male Le operazioni da fare Sono più che altro due O appunto Sfruttare il genere Del momento Quindi fare il genere Del momento Ma Gigi D'Alessio A fare indie O trap Non so quanto L'avrei visto bene Oppure si sfruttano Gli artisti del momento Per fare un disco Di featuring Con produzioni attuali Cosa che Come hanno fatto I Subsonica Col mondo indie Ha fatto Gigi D'Alessio Col mondo Trap Melodico Napoletano E questa operazione È riuscitissima Perché Sostanzialmente Gigi D'Alessio E la sua produzione E il suo produttore Fanno Il colpaccio La mossa intelligente Qual è? Che tutti gli artisti Ci sono alcuni Che mi piacciono molto Nel disco Come Franco Ricciardi Alcuni che mi piacciono meno Inutile nominare Chi sono? Tutti gli artisti Fanno se stessi E questa è La vittoria più grande Di questo disco Che ognuno È se stesso Nel disco Di Gigi D'Alessio C'è Enzo Dong Che fa Enzo Dong E ripete Enzo Dong Enzo Dong E devo dire La verità È stata un'operazione Interessante Le produzioni Sono anche molto belle Molto curate C'è qualche nota dolente C'è un featuring Con J-Ax Che non c'entra Assolutamente nulla Un featuring Con i Bundabash Stessa cosa Non so cosa ci fanno In questo disco Di rapper Neomelodici Napoletani Insomma appunto J-Ax e Bumbadesh Che ci stanno Un po' come lo zucchero Sulla pasta e ceci Però insomma A parte questo Il disco Mi è incredibilmente piaciuto E quindi Bella lì Dimmi Lui ha fatto Un programma Adesso a Rai 1 Sì In cui era giudice Lui Loretta Clementino Quindi evidentemente Non è questa vicinanza Con Clementino Sì infatti Infatti c'è anche Clementino Nel disco Sì sì The Voice Senior Lui ha fatto Allora mi leggo a questo Perché nel disco Ci sono ben due featuring Con Jolier Il rapper napoletano Del momento E quindi Metto in questa Classifica Che poi non è una classifica Anche il disco di Jolier Emanuele Marchio registrato E ragazzi Ragazzi Io ero molto diffidente Sul progetto Proprio Jolier Perché c'era questa Sempre questa intenzione Di fare un po' Il malandrino Con un Narcos Non mi ricordo Neanche come diceva Nel cassetto C'ho la pistola Un mio amico È figlio di un boss Un mio amico È criminale Il video Con i mitra In mano Ora ok Che diciamo Era tutta un'allegoria Di Narcos Serie tv Però onestamente Questa volontà Diciamo Di Questo essere Malandrini E ostentare Questa Diciamo Condizione sociale Non l'apprezzavo Per niente Tra l'altro pure Per secondigliano Mi sembrava Una canzone Stupida Fine a se stessa Una stronzata A sé Però Devo dire La realtà Che Jolier Con questo Emanuele Marchio registrato Che è sostanzialmente Una repack Del disco Diciamo Emanuele Del 2019 Mi ha sorpreso Davvero tanto Perché ha aggiunto Pezzi All'album Che sono In realtà Poi i migliori Suoi E sì Allora C'è sempre Un immaginario Che onestamente Non sopporto E non tollero Si dice Sai Talmente dai soldi Entro da Gucci Non pago Da Luis Vittorno Ho detto Qua il resto è mancia Ho speso 7k Da Dolce e Gabbana Sto citando Proprio Testualmente I testi Faccio più soldi Di loro In una settimana Cioè Chi cazzo Se ne frega Però Comunque Bisogna Diciamo Far conti Con la realtà E quindi Ognuno canta Di quel che vede Di quel che sogna Di quel che vuole Cantare Sostanzialmente Quindi Ognuno fa il proprio Storytelling Quindi Devo arrendermi al fatto Che una persona Che vive queste cose È circondata È circondata È onesto Che le canti Anche Diciamo Penso che Giollier Tecnicamente Sia molto bravo Vabbè Le produzioni Di That Boy Sono molto Interessanti Molto belle Anche Un po' Old school Su certe Cose Il flow Il flow Di Giollier Mi piace Molto Alla fine Anche come Scrittura È molto bravo Crea anche Delle figure Diciamo Allegoriche Molto carine Le melodie Sono simpatiche L'uso Della doppia voce E poi Comunque C'è Un uso Dell'autotune Come Come suono Più che Come esigenza Diciamo Per intornare la voce Che non mi è dispiaciuto Affatto Bella Per Giollier Album Interessante Nonostante Abbia delle canzoni Che proprio Non digerisco Che però Sono tutte Diciamo Già contenute Nel disco Emanuele Del 2019 Questa Repack I pezzi Aggiunti nuovi Mi piacciono Bene o male Tutti Ci sono Appunto Delle Parti Dei testi Che trovo Abbastanza Poco interessanti Per quanto riguarda Il mio gusto E per quello che io Circo dalla musica Voglio sentire Però Onestamente Tanto di cappello Andiamo avanti Andiamo avanti Slaughter Beach Dog Ragazzi Ragazzi Nuo album di Jake Dei Mother Baseball Con questo suo progetto Diciamo Solista Che ormai È un progetto Ufficiale Suo Non è più Un side project Dei Mother Baseball L'avevo aggiunto Anche l'anno scorso Nei migliori dischi Del 2019 Lo aggiungo Quest'anno Con questo disco Che mi ha fatto Davvero sognare Viaggiare Sognare E niente C'è un uso Della tastiera E del pianoforte Con tantissimi Con tantissimi ascolti Sono canzoni Di un pop Molto elaborato Che necessitano Di molti ascolti Però Quando poi Le assorbi Quando le Somatizzi Le apprezzi Talmente tanto Che poi Non puoi farne a meno Cosa che è successa Con i suoi pezzi Dei Mother Baseball E cosa che è successa Con tutti i suoi album Solisti Postumi Postumi Sembra che è morto Però Molto interessante Grandissimo Jake Andiamo avanti J-AX Con Reale Allora Allora ragazzi J-AX Con questo disco Che mi è piaciuto tanto Nonostante Tante cose Non Abbiano incontrato Il mio gusto Riesce a fare un album Davvero interessante Riesce a parlare Di violenza Sulle donne Di molestie Vendetta privata Di tasse Finanzieri Niente Diciamo che Sono sì Canzuccini pop Ma con una profondità E una Complessità Nel discorso Che ne fa Davvero incredibile Sì Diciamo Sottolineo Altre 30 volte Che ci sono canzoni Che per me Sono ignobili Come Super Cali Fragili Con Paola Turci Canzoni che Non mi piacciono Assolutamente A livello Musicale Però diciamo che È un disco Molto eterogeneo Ci sono canzoni Di vari generi Musicali Come un po' Ci ha abituato Sempre J-AX Che però Non ha un testo brutto E tutte le canzoni Riescono a colpire A colpire Davvero tanto E vabbè La title track Reale È praticamente Punk rock Un po' Quello che lui proponeva Nel suo primo disco Da solista Di sana pianta Quello che è forse Il mio suo Suo disco preferito Dopo L'articolo 31 Vabbè Punk che lui faceva Anche un po' Con l'articolo 31 Secondo me Con gli ultimi due album Mi leggo a questo Per aggiungere Un altro disco Dell'anno Che secondo me Merita La menzione Che è sempre Di J-AX Ovvero J-AXonville Vabbè Ovviamente Il titolo Cita Michael Jackson Ironicamente Niente Cosa fa J-AX Fa un disco Mettendolo solo Su SoundCloud Non diffondendo Il link E fa un disco Essenzialmente Tutto punk rock Con Marco Arata Ovvero Mark Dehammer Un famoso Youtuber E niente Ragazzi Il disco Mi è piaciuto Tantissimo On Debole Per il punk Per il punk rock Perché poi È il mio genere Preferito Tra l'altro Anni fa Mi ritrovai A parlare Con J-AX In un Diciamo Una presentazione Di un suo disco Alla Veltrinelli Mi trovai a parlare Praticamente Di punk Di Misfits Di Rancid E E niente Ho sempre amato Questo suo lato E Ho adorato Questo disco Tra l'altro C'è un pezzo Contro il pressappochismo Di tutti I lavoratori In generale In questo disco Lui Si leva Tutti i sassolini Che aveva in tasca Manda a fanculo Tutti Discografici Artisti Pressappochisti Gente che non sa fare Il suo mestiere Influenza Gente che usa le marche Come unico Scopo di vita E come unico scopo di vita L'apparire Eccetera Eccetera Bellissimo disco Mi incazzo davvero tanto Che non sia su Spotify Tra l'altro L'ho anche levato Da SoundCloud Volevo riascoltarlo In questi giorni Ma non ho potuto farlo E quindi niente Mi incazzo di questa cosa Che comunque un disco Per le measure Deve per forza avere successo Non può essere un disco Messo tanto per L'esigenza personale E quindi mi fa davvero Incazzare Tanto che questo disco Non sia sulle piattaveri Forme Io non lo posso ascoltare Con tale Fare facilità Come semmai Ascolto reale Sesso disco Dello stesso artista Dello stesso anno Il disco ha comunque Qualche difetto Le produzioni Sono poco curate Ecco Molti pezzi A saper molto bene Facendo sempre Il resto sul punk Il resto sul punk E adesso sul punk Sembrava Da Yoyo Ci aggiungo il disco Dei Mest Masquerade Disco davvero Che mi ha sorpreso In quanto il disco Presidente dei Mest Mi era piaciuto A tratti Ma non aveva Quella Non sia stata Quella originale Questo disco È fatto con la formazione Originale Tra l'altro C'è Geremia Secondo chitarrista E voce Dei Mest Che canta due canzoni Quasi completamente Fa la seconda voce Su un altro Paio di pezzi E su un'altra canzone Accompagna Tony Lovato E mi ha fatto davvero Tanto tanto piacere Tra l'altro In una canzone In cui canta Geremia Ci vedo molte influenze Degli Alcalin Trio Altra mia band preferita E quindi Piatto ricco Micifico Ok Poi ritorniamo in Italia Con il disco Di Car Brave Coraggio La fantasia Forse non è il suo forte Sui titoli Diciamo Si fa sempre Riferimento Al suo Nome d'arte Primo disco solista Notti brave O notti brave Secondo disco Coraggio Va bene Terzo disco Immagino si chiamerà Semplicemente Carlo Allora E niente Un disco che mi è piaciuto molto Di più del predecessore Lo trovo più compatto Anche per quanto riguarda Diciamo Le produzioni Sempre lo stesso mood Però insomma Ben studiato Le chitarre acustiche La fanno da padrone Nonostante sia un disco Più compatto E più Sempre sullo stesso genere Di canzone Lo trovo più libero Come disco Meno diciamo Ancora Lato all'indie O al dover Per forza fare Una canzone In un determinato stile O un determinato stile Che si porta Nonostante poi ci siano Nel disco Tante tante canzoni Così Però Molto figo Molto figo Ci sono molti featuring Fortunatamente Non così tanti Come il disco precedente Spigoli Il disco Il featuring Conta Supreme E Marasatei Penso sia il featuring Più riuscito Essenzialmente Dell'album E Molto Molto figo Andiamo avanti Achille Lauro 1920 Allora Cos'è questo Questo disco È sostanzialmente Un fritto misto Di inediti Citazioni Cover Reinterpretazioni E quant'altro E che a differenza Di 1990 Che non mi era piaciuto Affatto Funziona Funziona davvero tanto Ecco Qual è la differenza È che In 1990 Achille Lauro Prendeva Classici della musica dance O europop Eurodance Anni 90 E li rovinava Sostanzialmente E prendeva Capolavori Tra l'altro Per me Intoccabili Nonostante qualcosa poi mi sia piaciuto Anche lì Stesso il pezzo 1990 Non mi dispiaceva Però Ragazzi Qua siamo su altri livelli Achille Lauro E questa Untouchable band Diciamo Ricrea questo immaginario 1920 In cui Diciamo I ragazzi Come posso dire Ragazzi di strada Ecco diciamo così Vengono raffigurati In dei gangster Diciamo Del proibizionismo americano E niente Il disco È un susseguirsi Di tracce swing Jets E dove si Si cita Si citano tante altre cose A un certo punto Vengono citati Gli aristocatti Anche però Molto carina citazione Molto molto bello Nonostante Questo disco Abbia un paio di note Dolenti Che poi sono Due tracce Ovvero Jingle Bell Rock Con Alisa Perché? E poi c'è una Tuofa All'americano Con Gigi D'Alessio Che Onestamente Tranne che Se non sei A un matrimonio Alla sorrisa Ovvero Il posto Dove fanno Il boss Delle cerimonie Onestamente Non capisco Che ci sia Però Capisco che Diciamo È stata messa In funzione Di concept Ecco Quindi l'americano Era Diciamo In questo senso Però onestamente Tuofa L'americano Con Gigi D'Alessio Io Me la sarei Piacevolmente Risparmiata Ecco Grazie Andiamo avanti Fra quintale Banzai Lato blu Molto probabilmente Ne deduco Che ne esca Anche un lato Rosso Un po' come Le compilation Del festival bar E niente ragazzi Fra quintale Fa centro Anche stavolta Anche se Non mi è piaciuto Come l'album Precedente I testi Li ho trovati Meno interessanti Le figure allegoriche Non sono a livello Di quelle Che fra quintale Ci ha abituato È anche un po' Troppo monotematica Per quanto riguarda Le canette E le canzoni d'amore Ok Che come dice Il grande Brunori Canzoni d'amore Per chi alla fine Di cos'altro vuoi parlare E ci sta Però è proprio il modo In cui ne parla Anche le parole Ok Anche questo ripetere Sempre sto bene Sto bene Sono contento Sono contento Sì Ok Però mi sarebbe Piaciuto Un attimo Diciamo Una più particolarità Dei testi Ecco Però Comunque La cosa che colpisce Molto dell'album Sono le produzioni Ceri Che sono allucinanti Davvero bellissime Mi ricordano addirittura C'è il Dicigambino E mi ricordano Addirittura I Tame Impala E vabbè E niente Un disco Molto piacevole Amarena E' una hit Assoluta Che non capisco Perché non ha fatto Questo grande successo Quest'estate Anche se è stata Ovviamente Ascoltata molto Ma non quanto Avrei Voluto E niente Ho parlato Dei team Impala Quindi parliamo Anche di loro E metto anche loro In questa classifica Che non è una classifica Con questo Slow Rush E niente Ragazzi Kevin Caccia un altro Discone Nonostante Ho da dire Un paio di cosette Che questo disco Ha un grave problema Ovvero che Inizia con Quattro capolavori Assoluti Che sono Sostanzialmente Le canzoni migliori Del disco La cosa Cozza un po' Perché? Un po' perché Questi pezzi Erano già fatti Già stati fatti uscire Ok? Quindi Diciamo L'hype era salito Forse un po' troppo Alle stelle Almeno per quanto mi riguarda E quindi Diciamo che Mi aspettavo Anche di più Da questi O comunque Mi aspettavo Tutti i pezzi Di questo livello Cosa che Non poteva essere Poi Tanto c'è un pezzo Che Lost in Yesterday Molto molto bella Che è a livello Di queste quattro canzoni Però il resto Il disco Nonostante sia fatto Da canzoni carine Non lo è affatto Però È un disco Che Non posso far altro Che metterlo In questa In questo video Perché Queste 5-6 canzoni Capolavorali Mi hanno davvero colpito Produzioni allucinanti Niente ragazzi Vabbè Come al solito Il progetto Team Impala Regala sempre emozioni Regala sempre musica interessante E sarà Sempre Più o meno così Lo spero Andiamo con una band Pressoché sconosciuta Ma che vi consiglio molto Ovvero i Yatte Che fanno questo Sweet Shelter Album Questo minestrone Nostalgico Anni 80 90 Anche un po' 2000 Per certi versi È la cosa più vicina Agli anni 80 Che abbia sentito Quest'anno Sostanzialmente Ho preferito mettere Loro Piuttosto che mettere The Weeknd Il disco di The Weeknd Perché secondo me Questa è una validissima alternativa E onestamente Questo disco Mi è piaciuto Di più Del disco di The Weeknd Quindi ho fatto Questa scelta Sostanzialmente Nonostante il disco Di The Weeknd Mi sia piaciuto Davvero tanto E attenzione Anzi Diciamo che Ci metto anche L'altro disco De Yatte In questo video Questo è Shadow of Work Che sostanzialmente È sullo stesso filone Del disco Antecedente Anche se In realtà Non ricordo Neanche quale sia uscito Prima e quale dopo Siccome sono usciti Entrambi Questo anno E io Le ho scoperti Quando erano già usciti Entrambi Comunque Grande rivelazione Secondo me Band interessantissima Sì ovviamente Non fanno niente di nuovo Ma sono I migliori a farlo A momento Secondo me A fare Quel tipo di revival All'80 Andiamo avanti Blank Banshee Con Gaia Ecco Ritorna Il progetto Blank Banshee E con questo disco Un po' ambiente Un po' synthwave Un po' Vaporwave Minimalista Strano Che mi affascina Sempre molto Ecco Questo disco È ancora più strano Se vogliamo Del predecessore Ma Onestamente Lo ascolto Molte volte Quando sono al lavoro E Mi rapisce C'è qualcosa Nella composizione Di Blank Banshee Che mi attira molto E c'è riuscita Anche stavolta Torniamo in Italia Con il disco Di Bugo Cristian Bugatti Bugo riesce a fare Un album pop Con tutti i grismi Perfetto Anche grazie Alle produzioni Al gruppo di autori Ma I suoi testi Sono davvero Molto interessanti Ironici Bell featuring Quermal Metal Una canzone Ogni volta L'ascolto a bianco Come un coglione E le produzioni Tutte belle suonate Belle spinte Belle indie pop E pop Mi piacciono davvero tanto Davvero niente da dire Su questo disco Non ho neanche Una appunto da fare Un disco pop Con i controfiocchi Andiamo avanti Con un altro disco pop Ovvero quello Dei Travis Sfornano questo nuovo disco Ten songs Dieci canzoni Appunto Traduzione in italiano Che Nonostante la fantasia Del titolo Ovviamente assente Ci regalano Questo disco pop Molto leggero E' molto interessante Ecco Loro sono per me Una delle band Più sottovalutate Del pianeta Tra l'altro Una band Che mi ha cresciuto Ed è una di quelle band Che se non fosse stata Per loro Non avremmo mai avuto I Coldplay Molto probabilmente Chris Martin E' un grande fan Dei Travis Lo so che qualcuno Starà pensando Meno male Però comunque Secondo me I Coldplay Hanno per anni Sfornato musica Molto molto interessante Quindi io consiglio A tutti Questo disco Dei Travis Che forse Non è il loro disco Migliore Anzi quasi sicuramente Ma che regala Secondo me Belle emozioni Disco leggero La canzone Forse mia preferita E' Agost Tra l'altro Scelta come singolo Molto carina Anche il video Molto bello Restano una delle band Più sottovalutate Del pianeta E in questo disco Mi ricordano anche Un po' I Stereofonics Altra mia band preferita Sono sempre stati Un po' accostati No? Se vogliamo Vengono entrambi Da quel finore là Forse i Stereofonics Sono però Più di matrice rock Ecco Invece i Travis Sono Diciamo Un White side Ecco Dei Stereofonics Davvero molto bello Andiamo avanti Con Laura Jane Grace Con questo Stay Alive Ah ragazzi Disco davvero Davvero Tra i migliori dell'anno Laura Jane Grace All'anagrafe Tom Gabel Dei Against Me Che ha cambiato sesso Come appunto Tutti sanno E' un po' come Remida Qualsiasi cosa tocca Qualsiasi progetto Che tocca E diventa oro E questo disco Incredibile Canzoni quasi tutte acustiche Ma non solo Ce n'è qualcuno Anche con qualche Chitarrino Chitarrino elettrico Bella ritmata Molto molto interessante Davvero Molto consigliato C'è della leggerezza Con dei testi Sempre pungenti Anche Tristi E riflessivi Andiamo avanti Ho paura di scordarmi Qualche titolo Perché ho Titoli di dischi Praticamente sparsi Per questo foglio Allora Remo Drive Band rock Remo Drive Uno dei migliori dischi Quest'anno Così come è stato Per il 2019 Non posso altro che dire Che aspetto il 2021 Per un altro Bellissimo disco Grande band Da tenere d'occhio Ok Poi altro disco Che vi consiglio tantissimo È quello di Georgia Con questo Seeking Thrills Un synth pop Con voce femminile Davvero Interessantissimo Poi I Dune Rats Con questo Harry Up and Wait Punk rock Puro Punk Molto molto Happy Di matrice Molto happy Molto allegro E molto Menefreghista Niente Loro sono un po' Diciamo I migliori Forse a fare Questo tipo di punk Insieme ai Violet Soho Per quanto mi riguarda Consiglio tantissimo Di ascoltarlo Agli amanti del genere Poi un altro disco Punk rock Che consiglio tantissimo È quello di Phil Mack Wrecking Questo Shellstock Cioè questo Ramonescore Molto 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 Figo Consiglio sempre Per gli amanti del genere Ecco Poi Ci spostiamo di nuovo In Italia Con Colapesce Di Martino Con questo Immortali Disco Sulla scia Infedele Di Colapesce Che ho apprezzato davvero tanto Tra l'altro li vedremo a Sanremo Quest'anno Ed è un disco che mi è piaciuto molto Nonostante io non sia un fan di Di Martino Ma Un Seguace Tra virgolette Di Colapesce Ecco Questo disco si avvicina più al mondo di Colapesce Secondo me Che di Di Martino Secondo me anche A livello di composizione Sento che ci ha messo più del suo Lui rispetto a Di Martino È un disco Bello catchy La canzone con Carmen Consoli È molto figa La scrittura Del disco è molto figa Le canzoni sono pop Indie pop Interessanti Suona davvero molto bene Anche a livello di missaggio Mastering E tutto Tutto a puntino Davvero un bel disco Uno tra i migliori italiani Usciti in quest'anno Quindi Bella per Colapesce Di Martino Poi andiamo avanti Con I Broadway Calls Con questo Sad in the City Che io ho ascoltato Fino allo finimento Una delle mie band preferite Sempre di matrice Punk rock Penso che Went Dying La canzone Che chiude questo disco Sia la canzone Più bella del 2020 Non sto scherzando È una canzone Che davvero Mi colpisce Qui Davvero davvero figo Disco davvero figo Forse non il loro migliore disco Ma un disco davvero interessante Che unisce Anche qualche componente Rock Esternal Punk rock Davvero davvero molto figo Consigliato agli amati del genere E non solo In questo caso Poi andiamo avanti Con Soccer Mummy Soccer Mummy Con questo Color Theory Questa teoria del colore E niente La nostra Sofia Regina Allison Mi fa viaggiare Mi fa viaggiare Sempre molto in alto Con questo suo pop Leggero Acustico Ma anche un po' Elettrico Con qualche chitarrina elettrica Molto delicato Un po' Avril Lavigna Di Let Go Un po' Un po' Altro Riesce comunque Sempre a catturarmi Quindi Grande progetto E un ulteriore Grande album Per quanto mi riguarda Poi Restiamo sul pop Con Ellie X Con questo Cape God Pop di alta scuola Secondo me Ecco qui Diciamo L'elettronica Rispetto a Soccer Mummy È molto più presente Ellie X Mi ricorda Un po' Billie Eilish In certi pezzi Di quest'album Soprattutto Forse per l'uso Delle doppie voci Un po' Per il modo di cantare Mi ricorda anche Un po' Lord A tratti E niente È un disco Davvero Molto Molto figo Progetto Sempre Molto interessante Anche per lei Poi andiamo Con Francesco Bianconi Forever Allora ragazzi Il leader Dei Baustelle Confeziona Questo disco Completamente Furio dalle logiche Commerciali Che mi ha colpito In una maniera esagerata Ecco Non è un disco Per tutti Ma è riuscito Secondo me A unire Di Andrè Gaber Battiato In questo disco Di musica cantautorale Quasi tutta piano Voce Davvero incredibile I testi sono qualcosa Di spettacolare È riuscito A levare La volgarità Dalla parola Fica Addirittura Quindi Di che stiamo parlando Ragazzi Uno dei migliori cantautori Che abbiamo in Italia Sì Disco Che potrebbe risultare Pesante Se uno non è pronto A questo tipo di ascolto E uno di quei dischi Che però Se ti stendi Sul letto Con le cuffie E lo ascolti Tutto per intero E ne esci Secondo me Migliorato E ne esci Facendo delle riflessioni Sulla vita Davvero Disco Disco Molto bello Nonostante Sì Non sia per tutti Non sia un disco Pop Alla bostelle Ma Aveccene Di Francesco Bianconi E poi andiamo avanti Con i Bon Pops Con questo Death in Venice Beach Disco anche questo Punk rock Come vedete Sono sempre un amante Del genere Ecco C'è questo Pop punk Femminile Mega catchy Loro sono Diciamo Dell'etichetta Di Fat Mike E regalano Un altro disco Molto molto bello Molto simpatico E insomma Un disco Senza impegno Ma che comunque Regala Agli amanti Del genere Il pane Per i propri denti Anche stavolta Poi andiamo avanti Front Bottoms Una delle mie Band preferite Con questo In Sickness And In Flames Non è il loro disco Migliore Non c'è un'evoluzione Musicale Ma Sti cazzi Ecco Sti cazzi Seriamente Perché Regalano Un ulteriore disco Con canzoni bellissime Con testi Bellissimi Loro fanno Questa specie Di folk Punk Però con chitarre Acustica Ovviamente Essendo più Di matrice folk Anche se proprio Di folk Non si può parlare Però comunque Restano per me Un'indissolubile Sicurezza Poi andiamo avanti Zenzy Irkus Con l'ultima Casa Accogliente Che è un po' Diciamo Dove mi sento Quando li ascolto Ecco Io questa sensazione Ho avuto Ascoltando l'ultimo Dei Zenzy Irkus Che non Non innova Non aggiunge Ma regala Un bel disco Di canzoni piacevole Piacevoli Appesi alla Luna Il primo singolo Che hanno anticipato Il disco Se non mi sbaglio Non mi era piaciuta Per niente L'avevo trovato Piatta Non mi comunicava nulla Ma il disco È invece Molto interessante E quella Secondo me È forse L'unica nota dolente Sì ci sono dei pezzi Che mi piacciono Più degli altri Però A livello di testi A livello di Proprio di Cosa Appino Vuole comunicarmi Quando scrive È davvero Molto 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 Interessante E ci sono Un paio Di hit Che davvero Sono Meritevoli Ok Andiamo con L'ultimo disco Sempre se non ne ho scordato Qualcuno Notting Nowhere Con questo Fake friend E niente Il progetto Notting Nowhere Regala Questo disco Agli amanti Di questo Trap Punk Emo Molto Molto Figo Anzi Sottovalutato Secondo me Comunque Davvero Davvero Molto Figo Un mini Album Davvero Molto Interessante Che Secondo me Meriterebbe Di più Ok Ragazzi Questa Folia Di video È Finito Per fortuna Mia Che non Dovrò Parlare Ancora E per fortuna Vostra Che non Dovrete Sentirmi Più Grazie A chi Arrivato Fine Qui I pochi Coraggiosi Iscrivetevi Al canale Mettete Like Attivate Quella Cazzo Di Campanella Che comunque È inutile Perché youtube A volte Non fa arrivare Le notifiche Porco Giuda Donatemi Qualcosa Se volete Aiutarmi In questo Mio Progetto Video Fatemi Sapere Cosa Ne pensate Di questa Classifica Secondo voi Cosa dovevo Aggiungere Non ho Aggiunto Vi ripeto Che è stato Molto Difficile Fare Questa Scrematura Per me Da 60 Arrivare A 40 Però Bene o male Ci sono riuscito E anche In maniera Soddisfacente Perché sono Comunque 40 dischi Che mi sono Piaciuti molto Nonostante Poi tutti I difetti Io Sono un Cacacazzi Onestamente Però Molti di questi Artisti Sono artisti Che io amo E voi sapete Che comunque Chi ama Pretende Ecco Quindi Quando io Sono più severo Su certi artisti È perché Sostanzialmente Pretendo Da loro Di più Ecco Quindi Vi ringrazio Di aver visto Questo video Iscrivetevi Al canale Ripeto Fatemi sapere Anche cosa Ne pensate Del mio Progetto Musicale Seguite Anche la pagina Instagram Del mio Nuo Progetto Musicale Ripeto Nel 2021 Usceranno Nuove Canzoni E niente Io vi ringrazio Tutti Mi dispiace Di non aver Fatto la recensione Di soul Noi ci vediamo Al prossimo Video Anzi voi Mi vedete Al prossimo Video Se non ci sentiamo Per gli auguri Di capodanno Buon anno A tutti Auspicandoci Un anno Migliore Perché tanto Peggio Del 2020 Non potrà Essere Questo è Il mio Unico Augurio Ecco Ciao E grazie Mille E grazie Grazie.